Io credo che, queste sono iniziative interessanti di promozione, credo, io continuo a credere tanti anni, io rispondo sempre allo stesso modo, ma perché è morta la sala? A me non mi sembra, io viaggio in mondo, vado in Cina, vado in America, vado in Giappone, le sale non mi sembrano morte e non mi sembra che esista una competizione tra Netflix e la sala, questo è quello che io penso, sono due cose diverse, si vedono in modo diverso, la sala è un evento sociale, è come dire, io dico spesso questa cosa, è come dire che la cucina di casa è in competizione con i ristoranti, no? No, quindi io penso che il cinema, va bene l'iniziativa, però penso che il cinema debba imparare a non sentirsi in competizione con la televisione, con l'internet, ma fa la sua vita bella di cinema che secondo me va avanti.